Correre! E' l'altra. Ok, possiamo andare. Sei sicura? Oh, Gesù. Sei carico? No. Ragazzi, non sono mica convinto! Help me! Sto cagata sotto. Ma porca la p***a. Aiuto, fatemi scendere. Sono al sicuro? No. 1, 2, 3. Ma sono molto severi. Era 10. In maniera paraculesca. Noi ci fermiamo. Non Noel. Passato l'altro giorno. Vik, come l'altra volta? Adesso ti passa. Blocca quella macchina lì? Sai, pari. No, Vik, tozdai calma un attimo. No�를! Ho capito niente di tutto quello che è successo. Niente! Parapara, papapara. Perf Volvo. di danza. Questo è fantastico. Ho anche poi rischiato di essere eliminate. Oddio, sette mostri. Soffrivo le pene per colpa del pene. Che c***o dici? Una, due, una, due, una, due. Vai Paris. Ma ciò faccio più. Cosa da merda, nero, ciao. Scusa. Sembrava una vedova. Arrivare in finale è una grandissima soddisfazione e magari arrivare primi a differenza di Miccio. Grazie per avermelo ricordato. Prego caro. Qui ho imparato che il mondo ha bisogno di più amore. Andiamo tutti a Dubai.